E' benvenuto al quarto gameplay della eSports di Metal Gear 4 Qui con Vale 93 Bat E buono per me a te Ma quando abbiamo la gameplay con Metal Gear 4? Allora, adesso abbiamo lasciato il gruppo dei Rat Patron numero 1 Con il puzzone Johnny si che è un grande E adesso ci ritroviamo di nuovo nel mezzo di una guerra Poi io sono fidanziano Si I più facoltosi si sono avvalsi di tacea bombardiere Ah, un'altra cosa Per me la corazzata con John King è una cagata pazzesca Eeeeeee Novantadue minuti di applausi Mi dè appoggio? Pol cazzo che ti do appoggio Ah, dicevo che è accaduto qualcosa di strano Oh, non mi schiacciate quello coglione Ciao Dove diavolo sta? Ah, non mi schiacciate quello coglione Ah, dove è? Uah Eeeh, niente Eeeh, niente Eeeh, fette Da che fette devono andare in questo? Eeeh Eeeh E che cazzo Me li ritrovo sempre davanti a voi Si Bella scoperta Oh, basta Si, sono il vostro nemico Punto Ah Mi ha tenuto in posto Vedi abbiamo aiutato i miliziani Eeeh 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 Si, avrei viagione Dovemmo andare soli Bravo Vedi che a volte ce la fai A volte Bravo Bravo, 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 bravo Ah, vuoi vedere questa bella scena adesso? Si Adesso ti mostro le belle e le bestie Questa è? No, no Questi sono i miliziani Adesso succede qualcosa di spiacevole a tutti Tra l'esterno, vabbè Se no finirebbe il gioco qua Boh Qualcosa ha fermato il bunker là Alla riuscita Vedi? Cosa? Vedi dalla zappa? No Ah Ah Questo si chiama Eeeh Questo si chiama Crying Won Lupo piangente Fa cos'è E' un fai Le belle Ma Cosa può fare? Cosa si riferisla Questa è un fai Un fai Una specie di uccello Sono Questo è l'Augenic Octopus, cioè Polipo che ride. E poi manca un'altra, che è tipo attesa, che si chiama Screaming Mantis, per comandare persone. E' molto simile a Psycho Mantis, di Metal Gear 1, lo vedi? E' uno spirito, perchè è morto. Se fossi una scuola, la mia fidella direbbe, io non pulisco tutto questo. Sembra la Corrido. Vai Torello, vai! Vai Torello, vai! E' un'altra, che è un'altra, che è un'altra. Questa è una scuola, che si distruggerà. Questi, per come si distruggeranno? Questi, per come si distruggeranno? Non li distruggeranno con impagni differenti, però. riuscirà a distruggere ti è piaciuto lo spettacolo? adesso lui si guarda in uno scenario di desolazione e di morte wow si è emotivo eh vabbè comunque che cazzo? allora vediamo un po' qualcosa di buono contro questo che sono? scusa che cosa? mi iniziano? no sono del PMC cioè sono dei nostri nemici perché dio sei la pistola con scienza? perché non voglio essere scoperto se no mi butta una pezzo a altre hit o cazzo ce n'è un altro bene ah stiamo a cavallo ok zitto qua faccio di me ok adesso da qua dovremmo arrivare all'accampamento di liquidi ok no eh che cazzo ho fatto tanto fin a moca non mi vi scopri vabbè questa è parte del NBass eh che cazzo che cerca di uccidere liquid ah si adesso cerca di uccidere liquid però grazie a un sistema molto ingegnoso cioè lui fa scatenare una cosa che gli fa saltare le nano macchine del corpo e quindi non riesce ad ammazzarlo e se ne vanno dal Medio Oriente finisce qui quindi anche il quinto gameplay della EA Sports di Metal Gear Solid 4 noi vi salutiamo e ci vediamo per la prossima cazzata ciao